Siamo all'ultima presa di posizione in tema di famiglia di Papa Benedetto XVI. È tornato questa mattina ad attaccare il divorzio e il principio di famiglia allargata che nasce dalla separazione dei coniugi. La Chiesa, ha detto il Pontefice, non può restare indifferente di fronte alla separazione di marito e moglie e del divorzio, di fronte alla ruina delle famiglie e alle conseguenze create dal divorzio sui figli. In particolare la separazione dei coniugi, ha detto, provoca problemi proprio per la loro educazione.